Stasera avevo proprio bisogno di questa sua anima, quindi lui sarà felice di questo piccolo pezzo. Scusa se adesso io non piango, ma canto così, Adri, la tua volontà c'è e non se ne andrà. Anche se adesso non posso parlare con te, della mia musica e della città, dove vivo da un po' e ci troveremo. Il cielo è più sereno, ascolteremo tutta la musica del mondo, tu che vivi nell'anima e chi ti ama oggi per com'eri ieri. Tu che vivi nell'anima e non vuoi dire a tu pensiero. Non siamo stanchi, non siamo stanchi no, abbiamo ancora pochi minuti perché qui con le nuove regole alle 11.30 esatte ci staccano la corrente. Giulia Piolanti era la ragazza che si è arrampicata, bravissima, che è venuta fino a qui, un grande applauso a lei. Le persone che hanno montato tutta questa struttura sono più di 200, gli organizzatori, Salzano, mio fratello, la mia band, Dario, Stefano De Maio, il progettista, a tutti quanti, Corazzi, non mi dimentico di ringraziare la tua ragione delle persone, ma loro da un grande applauso perché veramente hanno fatto un lavoro eccezionale. Agli amici qua di Rozzano, che stasera sono tantissimi, alle belle cose che la vita mi ha regalato, compreso questa notte. Diamo tutto adesso.